Bonus Cucine 2024 rinnova e spendi la metà? Il Bonus Cucine 2024 offre una detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di nuovi arredi, rendendo la casa più funzionale. È essenziale che i mobili cucina siano acquistati per immobili ristrutturati e che la data di inizio lavori preceda l'acquisto. I pagamenti ammessi per il Bonus includono bonifici, carte di credito o debito, escludendo contanti e assegni. Conservare la documentazione come fatture e dichiarazioni è cruciale in caso di controlli futuri delle autorità.